Spoleto Spoleto ricorderà i 50 anni dell'impresa della missione Apollo 11 che portò il primo uomo sulla Luna dedicando la giornata di sabato 20 luglio alla Luna e alla esplorazione dello spazio. Tra scienza, cinema, musica e astronomia, Spoleto sulla Luna celebra il nostro satellite, lo spazio e le stelle con un convegno dedicato alle missioni Apollo e al futuro della esplorazione spaziale con una rassegna di film che hanno come protagonisti la Luna e lo spazio, con un aperitivo in musica con brani classici e moderni tutti legati alla Luna e alle stelle con l'osservazione del cielo grazie all'ausilio di potenti telescopi messi a disposizione da appassionati astrofi. L'iniziativa della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini in collaborazione con il comune di Spoleto è stata inserita all'interno del programma di Spoleto Estate 2019.